buongiorno buongiorno e buon pomeriggio da karim allora per milion day di oggi per cinque colpi giochiamo questi due coloni come solito chi vuole giocare il sistema ridotto lo gioca pure come volete voi ok allora prima cosa un saluto aspettate un saluto un saluto della viva che sta dormendo e quali qua che il assisi anche la sisi che sta dormendo perché con l'aria condizionata stanno bene eccole qua ok allora andiamo avanti speriamo che porta a voi porta fortuna ok porta un po di fortuna della sisi e la viva allora le previsioni che sono da giocare la vc già visti il 10 all'otto serale e il lotto sono buoni da giocare speriamo che escono al primo colpo mi raccomando giocate sempre poco mi raccomando lo dico sempre giocate sempre poco e scusate sì e speriamo che che escono al primo colpo perché sono come la prima volta che lo faccio col tablet tutto un casino guarda un po di pazienza ragazzi allora i numeri che sono eccoli qua million day ok 5 6 7 guarda che veramente mai fatti così Studiati però sono venito fuori così ok sono venito fuori così la tecnica è questa allora 5 6 7 44 53 e poi 5 36 44 il 48 il 48 il 50 abbiamo un 44 il 5 che che è uscita due volte ok è la nostra ripetuta due volte scusate perché non riesco a tenere fermo anche il telefono scusatemi ok ci siamo allora 5 6 7 44 il 53 e poi abbiamo il 5 36 46 44 48 e 50 48 e 50 questi vanno giocati fino circa fino a venerdì per cinque colpi l'avevo già scritto ok e poi cambio ok e poi cosa vuol dire ancora per il lotto lo trovate se sono già disponibile sul canale youtube anche il 10 all'otto e poi anche il anche super all'altro super all'altro rimangono sempre quelli non lo sapete che non cambio che non cambio ok rimangono sempre quelli e per un'altra cosa e per un'altra cosa quello vuol dire per il discorso del lotto avete visto che è uscito il 10 sul Bari e nazionale ok lo dico un'altra volta lo dico chi vuole chi vuole giocare su questa volta solo la ruota di Napoli 10 il 24 ok il 10 il 24 lo giocate solo su si spegne continuamente scusate giocate solo Napoli ok il 10 il 24 va bene e poi cancellati tutto quelle del mio compleanno e le altre previsioni basta perché sennò diventano troppi troppi numeri ok e speriamo bene buona giornata a tutti e adesso se riesco a pubblicare questi più tardi possibili così meno gente che lo gioca e la possibilità di vincere vediamo stasera ciao ciao buongiorno 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 e buon pomeriggio da Karim allora per milion day di oggi per 5 colpi giochiamo questi due colonne come il solito chi vuole giocare il sistema ridotto lo gioca pure come volete voi ok allora prima cosa un saluto aspettate un saluto un saluto della beba che sta dormendo eccoli qua e la Sissi anche la Sissi che sta dormendo perché con l'aria condizionata stanno bene eccoli qua ok allora andiamo avanti speriamo che porta a voi porta fortuna ok porta un po' di fortuna dalla Sissi e la beba allora le previsioni che sono da giocare la vita è già vista il 10 all'8 serale e l'8 sono buoni da giocare speriamo che escono al primo colpo mi raccomando giocate sempre poco mi raccomando lo dico sempre giocate sempre poco e scusate sì e speriamo che che escono al primo colpo perché sono come la prima volta che lo faccio col tablet è tutto un casino guarda un po' di pazienza ragazzi allora i numeri che sono eccoli qua million day ok 5 6 7 guarda che veramente mai fatti così studiati però sono venuto fuori così ok sono venuto fuori così la tecnica è questa allora 5 6 7 44 53 e poi 5 36 44 il 48 il 50 abbiamo il 44 il 5 che che è uscita due volte ok è la nostra ripetuta due volte scusate perché non riesco a tenere fermo anche il telefono scusatemi ok ci siamo allora 5 6 7 44 e 53 e poi abbiamo il 5 36 36 44 48 e 50 questi vanno giocati fino circa fino a venerdì per 5 colpi l'avevi già scritto ok e poi cambio ok e poi cosa vuol dire ancora per il lotto lo trovate se sono già disponibili sul canale youtube anche il 10 all'8 e poi anche il anche il super all'8 super all'8 rimangono sempre quelli lo sapete che non cambio che non cambio ok rimangono sempre quelli e per un'altra cosa quello che vuole dire per il discorso dell'8 avete visto che è uscito il 10 sul Bari e nazionale ok lo dico un'altra volta lo dico chi vuole chi vuole giocare su questa volta solo la ruota di Napoli 10 il 24 ok il 10 il 24 lo giocate solo su si spegne continuamente scusate giocate solo Napoli ok il 10 il 24 va bene e poi cancellati tutto quello del mio compleanno e le altre previsioni basta perché se no diventano troppi troppi numeri ok e speriamo bene buona giornata a tutti e adesso se riesco a pubblicare questi più tardi possibili così meno gente che lo gioca e la possibilità di vincere vediamo stasera ciao ciao ciao